Ci vuole del tempo, ci vuole del tempo perché bisogna rispettare i canoni, insomma, della casa editrice, nello stile della scrittura, poi ci sono molto monoscritti lunghi, sì, poi c'è comunque da fare, tanto oltre l'editing c'è, insomma, la grafica, l'impaginazione. No, 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 non era una critica, sono io che mi sento come dire che ci faccio. No, no, assolutamente, assolutamente, lo dico perché essendo che collaboro con loro, adesso ad esempio io sto correggendo un libro, figuratevi, di 345 pagine, ci sono da un mese, da un mese su perché, molto bello tra l'altro perché poi ti prendono, però il tempo ci vuole, sì. No, 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 figurati, figurati, ho fatto anche l'editing per Guido ed è stato un libro per me eccezionale, bellissimo. Sara, non dirlo a nessuno, ma l'ultimo che ho scritto è 560 pagine. Spera che non so, vuoi farlo o no, Sara? Guarda, il libro di Guido, davvero in pochissimo tempo perché è scritto benissimo, davvero, è anche 300 pagine, quindi insomma... Sono tutti, minimo 280, 350... Io un po' lunghino, però veramente bellissimo.